musica Salve a tutti e benvenuti a OptiTube Channel, il primo canale di Youtube italiano interamente dedicato all'optometria quest'oggi vediamo il Phasmol Munster Test il quale è un test che valuta la visione dei colori ed è presente nella sua versione online quindi ho pensato di farvi un tutorial ovviamente vi metto il link di questa pagina e delle altre che andremo a vedere tutti nella descrizione questo test a differenza degli sciara si basa non sulle tavole pseudo-isocromatiche ma su dei tassetti colorati che devono essere disposti in un particolare ordine tale da creare una variazione cromatica abbastanza graduale questo test ovviamente è da prendere molto con le pinze perché è sempre un test homemade molto amatoriale e ovviamente il test attendibile, standardizzato o quel che volete viene fatto dal professionista della visione quindi è sempre meglio regarsi da un professionista della visione per tutto ciò che riguarda la visione ovviamente il test potrebbe variare quindi potreste percepire delle variazioni fra una prova e l'altra poiché ad esempio la motivazione incide tantissimo infatti qui nella parte bassa della pagina c'è scritto che un'alta motivazione potrebbe migliorare il risultato del test fino al 30% ad esempio oppure se passate da uno schermo di un dispositivo ad un altro a seconda delle impostazioni cromatiche potreste riscontrare delle differenze per iniziare il test andiamo qui quindi su start e quindi abbiamo una schermata di introduzione con le istruzioni qui dove ci spiega come posizionare i vari tasselli e quale diciamo un po' la logica del test poi possiamo iniziare il test direttamente da qui da start test altrimenti ritorniamo all'introduzione il risultato del test poi ci viene mostrato attraverso un diagramma attraverso questo tipo di grafico e tutti questi pallini colorati rappresentano le varie colorazioni presenti all'interno del test dunque possiamo iniziare il test da start e fondamentalmente abbiamo queste quattro stringhe e dobbiamo mettere in ordine i vari tasselli quindi il primo tassello di ogni stringa e l'ultimo tassello di ogni stringa ci danno delle indicazioni sulla disposizione dei tasselli intermedi quindi iniziamo dalla prima e quindi provo un po' a metterli in ordine ecco qui ho finito la mia prima disposizione ora passo la seconda stringa ok ora ho finito la seconda stringa passo la terza sempre lo stesso procedimento ok approssimativamente dovrebbe essere questa ok facciamo l'ultima ok dovrebbe aver finito I'm done quindi vi mostrerà il risultato in questo grafico fondamentalmente se vado a spuntare una di questi tre pallini andiamo diciamo a renderci conto di quali sono le aree del grafico che ci potrebbero mostrare delle disfunzioni a livello della percezione del colore per quanto riguarda la gamma del rosso del verde oppure del blu posso continuare con maggiori dettagli e oltre ad avere il grafico che abbiamo precedentemente visto abbiamo anche un risultato sotto forma di punteggio più è basso il punteggio e migliore ovviamente sarà il risultato del test quindi minore sarà la quantità di alterazioni relative alla visione dei colori vi è anche una versione ridotta del test di fast word che presenta soltanto 15 tasselli quindi io provo a porre questi tasselli nell'ordine corretto vado su show me my results quindi mostrami il risultato e abbiamo questo tipo di grafico che è un po' diverso da quello che abbiamo visto precedentemente però cosa ci vuol dire questo grafico? che se i tasselli vengono disposti seguendo la curva che vi sto tracciando col puntatore del mouse allora il test mostra l'assenza di alterazioni relative alla percezione dei colori mentre nel caso in cui vi fosse una disposizione anomala di questi tasselli o meglio dei collegamenti fra i vari tasselli come praticamente in questo caso qui allora il test ci va a mostrare diverse alterazioni a livello della percezione dei colori vi è un'altra versione del test di fast word mussel la quale è molto simile alla prima versione che vi ho mostrato solo che nel risultato è più intuitiva infatti sullo sfondo vediamo lo spettro elettromagnetico quindi con le variazioni cromatiche e tutte queste colonne, questi histogrammi vanno praticamente a rappresentare il risultato del test ogni colonna rappresenta uno dei tasselli che abbiamo visto nelle quattro stringhe precedenti e queste colonne più basse quasi minime rappresentano i tasselli posti nella loro posizione esatta già di default mentre le colonne un po' più alte rappresentano dei tasselli la cui posizione è abbastanza erronea le colonne un po' più basse ancora rappresentano dei tasselli che sono stati posizionati molto vicini alla posizione corretta poi nel sito ovviamente vi do il link di tutto in descrizione ci si può andare ad informare ovviamente sui tipi di alterazioni nella percezione del colore e andare a fare altri test come l'isciara oppure l'anomaloscopio eccetera oppure simulare addirittura delle condizioni visive alterate ad esempio questa è una condizione visiva normale se ad esempio volessi mostrare una condizione visiva in cui il blu non viene visto allora clicco qui blu blind tritanopia e questo è il risultato ovvero la percezione di chi non percepisce il blu dunque anche per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi soprattutto al canale ma soprattutto condividete il video nei vari social network e fatemi sapere nei commenti quale è il risultato del vostro test magari allegate uno screenshot oppure scrivete, commentate, spolliciate insomma fate un po' quello che volete noi ci vediamo al prossimo opto video bella opto start iscrivetevi al canale